Ci sono cinque comuni che oggi sono sotto stretta osservazione. Si tratta di un'ordinanza che verrà emessa, un'ordinanza che toccherà le attività economiche, ma che limiterà la possibilità di spostamento nelle zone oggetto di questi risultati che denotano una circolazione del virus ancora elevata e diffusa. I cinque comuni anticipati in mattinata dal presidente della regione Marche, Francesco Acquaroli, col passare delle ore si sono rivelati cinque microzone rosse dentro una regione Marche in zona arancione. Ben quattro microzone su cinque appartengono alla provincia di Pesero Urbino. Si tratta dei comuni di Acqualagna, Montelabate, Vallefoglia e Tavuglia. La quinta microzona rossa sarà invece l'Anconetana Cerretodesi. La logica alla base delle microzone rosse è quella di creare un giro di vite di misure restrittive che scattano quando i comuni si attestano sopra a 250 casi per 100.000 abitanti oppure con un analogo numero percentuale di contagi parametrato alla popolazione del comune specifico. Il provvedimento della microzona rossa entrerà in vigore da mercoledì 21 aprile e rimarrà vigente fino a domenica 25 aprile. L'intento è quello di mitigare i contagi nella speranza di avere cifre contenute al punto dal portare le Marche in zona gialla dal 26 aprile come vorrebbe la recente apertura del governo Draghi. Si tratterà però di una zona rossa più soft rispetto a quella conosciuta fino a 15 giorni fa. Il colore rosso riguarderà infatti le relative limitazioni agli spostamenti ma non avrà impatto sulle attività economiche e produttive come precisato dallo stesso Acquaroli. Sicuramente quando ci saranno dei dati su alcune zone che attesteranno una difficoltà bisognerà intervenire, interverremo per cercare di mettere delle misure di mitigazioni che tendano a non colpire le attività economiche ma creare sicuramente una minore possibilità di assembramenti e una minore capacità di movimenti laddove il movimento col virus che gira può diventare pericoloso. Laddove l'andamento in alcune zone dovesse tornare a crescere in maniera forte superando i 250 casi su 100.000 abitanti preferiamo agire in maniera forte oggi che abbiamo questo parametro in maniera chiara dato dal CTS e dal Ministero della Salute. Preferiamo agire in via preventiva piuttosto che poi vedere chiusure più lunghe e su territori più ampi anche perché la riapertura al 100% della didattica in presenza sulle scuole, il trasporto pubblico locale che è stato potenziato ma non sappiamo se riuscirà ad essere in grado di mettere in sicurezza tutti gli alunni, questi aspetti possono essere molto influenti e vanno tenuti sotto stretta osservazione.